Così abbiamo approfondito anche questa questione ed è emerso che in effetti si dice Pantini, è uno scrittore vastese e quindi lo ricordiamo in questa occasione e diciamo a tutti i pescaresi che il nome effettivo è proprio Pantini. Ora appurata la pronuncia esatta della via poniamo l'accento sì ma sulla questione degli alberi da tagliare 58 per permettere l'allargamento della strada in questione che collegherà via Antonelli con via della Bonifica e vari comparti della Pineta. Il sindaco Masce alla luce delle polemiche sollevate dagli ambientalisti ed alcune forze di opposizione. Il futuro sarà quello di una strada che risolverà molti problemi di viabilità, poi ci saranno mille alberi in più che noi pianteremo nella zona della Pineta, ci sarà l'eliminazione dell'attuale strada che collega la tangenziale con le vie limitrofe in modo da recuperare molto spazio per il parco quindi certamente un miglioramento della viabilità. Poi per quanto riguarda le piante che il piano di assetto naturalistico che noi abbiamo trovato, perché il piano di assetto naturalistico è legge regionale e viene da molto lontano, viene dal 2009, per quanto riguarda quel piano e quelle piante che dovrebbero essere eliminate in base al piano, noi cercheremo di salvarle il più possibile. Alcune le ripianteremo, altre ovviamente dovremo sacrificarle ma al posto di quelle poche piante che sacrificeremo ce ne saranno mille in più perché l'equilibrio che gli altri avevano trovato con 170 piante, noi invece lo portiamo a mille piante. Rilanciamo perché Pescara ha bisogno di verde, ha bisogno di piante e noi ci stiamo muovendo proprio in questa direzione. È chiaro che nessuno può pensare che un'operazione che ha avuto una gestazione così lunga possa essere modificata in dieci giorni perché è impossibile. Perché io credo che se ci fossero state altre soluzioni come quelle che oggi vengono avventurosamente proposte, chi ha esaminato il piano e ripeto sono stati fiori di ambientalisti, l'avrebbero certamente utilizzato come percorso amministrativo. Oggi il percorso è questo, siamo arrivati alla fine, nel senso che l'impresa è pronta a iniziare i lavori.